Maga, 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 serenella maghella Marta, la 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 mano a batti la mano a Marta la matta Marta dice mi sa male la gamba piega la gamba Marta dice Eh? Il bacino Sì, il bacino Rota bacino, rota bacino, rota bacino, rota Gira la testa, 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 gira la mano, batti 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 Marta la Marta Marta la Marta Iniziamo subito mettendo le mattine davanti e partiamo facendo due passetti verso destra 1, 2 e poi verso sinistra 3 e 4 Ripetiamo questo per 4 volte e vai 1, 2, 3 e 4 e qui facciamo un urletto portando le mani indietro E riparto 1, 2, 3 e 4 urletto Da qui Marta la Marta dice che gli fa male la testa e quindi giro la testa verso destra 1 e poi verso sinistra 2 e poi di nuovo con l'urletto con la testa all'indietro Vai! Dopodiché Marta la Marta dice che gli fa male la manina e quindi batto la mano verso destra e dopo verso sinistra Vai! Per due volte e 1 e 2 Da qui a Marta la Marta fa male la gambina e quindi piego la gamba 1, 2, 3 e 4 e poi scopro che il bacino è questo e quindi giro il bacino, ruota, bacino, ruota, bacino, ruota e per 4 volte 1, 2, 3 e 4 e poi ricomincio con il ritornello andando verso destra 1, 2, 3 e 4 e di nuovo verso sinistra 1, 2, 3 e 4 e questo era Marta la Marta Ciao bimbi! Un saludo! Ciao450!!! Bye! Grazie a tutti.